La seconda stagione del concorso è stata vinta da Giuseppe della Misericordia, autore di Ti presento papà. Questo spettacolo è una commedia molto divertente che racconta di un piccolo incidente che occorre al capofamiglia e al futuro sposo, il fidanzato della figlia di questa famiglia. Mi sono un po' intrecciato. Sono la mamma, la mamma di Alessandra, cioè Chiara. Tutta colpa di papà e del mio fidanzato, che hanno lo stesso vizio. In barba a mia moglie ogni tanto vado con una simpatica donnina, che però guarda caso viene frequentata anche da quello che sarà il fidanzato di mia figlia. La futura suocera di Alessandro. E io ho forse lo stesso vizio di suo padre, ma in verità non ce l'ho quel vizio lì, io sono una persona per bene. A questo punto è la rivale, direi che è una guerra senza rivali, della fantomatica Monica Susanna, ma non si dice. E io non posso dire niente, sono l'effetto sorpresa. No, sì. Io sono la sorpresa. Surprise! Grazie. 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 Grazie.